Ciao Casa del Jazz, noi siamo Archive Valley e suoniamo una musica che trae ispirazione dal folk, dalla tradizione folk del Nord America, nello specifico un genere che si chiama Old Time e lo mischiamo col jazz, con la musica classica quando ci riesce e avremo dovuto suonare alla Casa del Jazz in aprile, purtroppo non è stato possibile, ma siamo ben felici di partecipare a questa galleria virtuale di contributi, speriamo di vederci presto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti